Proseguono i lavori sulla Fondo Valle Calore, un'opera viaria progettata nel lontano 1989 ma rimasta eterna incompiuta. La Fondo Valle Calore rappresenta un'infrastruttura strategica per il territorio a sud di Salerno, un'asse stradale a scorrimento veloce che agevola il collegamento tra le aree interne del Cilento e la Valle del Sile. Abbiamo incontrato il vicepresidente della provincia di Salerno, Luca Ceretani, per un aggiornamento sui lavori in corso. I lavori procedono, c'è stata tutta una prima fase di messa in sicurezza, hanno iniziato da poche ore quella che è l'attività di lavori vere e proprie, c'è stato un periodo di transizione tra la vecchia fase e la nuova perché poi bisognava consegnare quello che era il collaudo parziale delle opere, però devo dire che la ditta sta andando avanti e quindi credo che noi porteremo a termine questi lavori per l'anno nuovo, credo per la primavera. Oltre alla fondovalle Calore, sono previsti degli interventi di messa in sicurezza della via del mare nel tratto tra Agropoli e Castellabate e di località a mezza torre del comune di San Mauro Cilento. Sulla questione è intervenuto sempre il vicepresidente della provincia di Salerno, Luca Ceretani. Per quanto riguarda le attività sugli svingoli, non è un'attività di riquarificazione, è un'attività di manutenzione generale, perché ci sono stati dei danni e quindi adesso provvediamo alla riparazione avendo fatto una gara proprio per questo tipo di attività. Poi l'impianto di illuminazione è anche vecchio in alcuni punti, particolarmente ad Agropoli Sud, ci sono dei lampioni che sono in condizioni precarie, però siamo riusciti a reperire i fondi per riuscire a ridare dignità a questi svingoli, soprattutto per una questione di sicurezza, perché poi un'illuminazione spenda agli svingoli crea dei disservizi di sicurezza ai cittadini. Quando riguarda altri interventi, Agropoli è interessata dalla strada che vada dal centro cittadino a Trentovo, una strada dove abbiamo fatto una perizia, paghiamo la carenza di fondi, però tante volte leggo pure di polemiche sulla provincia che non fa l'intervento sul costone roccioso che costeggia la strada, ma quello non è di proprietà della provincia, è un costone di proprietà dei privati e sappiamo benissimo che non possiamo intervenire in quell'ambito. Potremmo anche farlo qualora avessimo i fondi necessari per fare un intervento, però diciamo che la provincia in questo momento non è proprio nelle condizioni, viste anche gli ultimi provvedimenti sul dissesto finanziario, per farlo. Io mi auguro che la regione riesca a intervenire con dei fondi, magari con una progettazione che sta portando avanti il comune, per risolvere definitivamente il problema, perché rattoppare magari quello che può essere il marciapiede o la strada si rischia di fare un provvedimento temporaneo che poi dopo sarà di nuovo rovinato da quello che è poi il movimento del terreno che continua, perché la frana, il rischio idrogeologico è comunque fortissimo in quell'area.